Celebre soprattutto come attrice di teatro e di televisione, ha girato pochi film, alcuni dei quali tuttavia famosissimi, tra cui La dolce vita di Federico Fellini, La vita è bella di Roberto Benigni e Fuori dal mondo di Giuseppe Piccioni. Nel 2004 presta la sua voce al sogno, nel tour cattura il sogno di Renato Zero. Nel 2014 appare nel film di Aldo Giovanni and Giacomo e Morgan Bertacca il ricco, il povero e il maggiordomo nel ruolo della madre di Aldo. Calcedonia.